Gli indici definitivi dei prezzi al consumo analizzati dal Comune di Trieste non fanno altro che confermare il difficile periodo attuale del carovite e dell'inflazione galoppante che attanaglia famiglie e imprese. Nel settore abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili, l'aumento al settembre del 2022 rispetto all'anno precedente è pari al 34,5% del 12,1% nello stesso periodo di riferimento per prodotti alimentari e bevande analcoliche, 9,6% sui trasporti, del 7,9% su mobili, articoli e servizi per la casa. Pochissime le variazioni a ribasso, compaiono di fatti solo diminuzioni irrisorie del 2,7% sulle comunicazioni e dello 0,7% sull'istruzione, sempre sul periodo settembre 21 contro settembre 22. Quando uno guarda il 9,2% di inflazione deve guardarlo invece con attenzione su quelli che sono i costi obbligatori, non possiamo fare a meno di mangiare, non possiamo fare a meno di energia elettrica. Pochi margini operativi del Comune di Trieste che oltre a operazioni di limatura sull'Atario e sul suolo pubblico, poco o nulla possono influire sui costi degli altri beni del paniere. Noi abbiamo in tutti i modi cercato di aiutare le diverse categorie abbattendo l'Atari, cercando di evitare la pressione fiscale, chiaramente quello che possiamo fare noi come Comune. Il documento presentato oggi rappresenta lo specchio della situazione che il Comune realizza con estrema cura, a beneficio di chi poi potrà orientare determinate scelte o i dovuti e sperati accorgimenti per aiutare i consumatori non solo a orientarli circa l'andamento del mercato, ma anche su come doversi organizzare per la spesa quotidiana, nell'attesa, si spera non vana, di un intervento dello Stato. Questo è il senso di questo focus che vuole mettere in chiaro il prezioso lavoro dei collaboratori che io ho nell'Ufficio Comunale Statistica, quindi l'Ufficio dell'Elevazione Prezzi, che offrono dei dati puliti, puri, da dare poi a chi se ne deve occupare. Grazie a tutti.